150 le iniziative, la più importante questa mattina al Polichinico Gemelli su iniziativa della Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti. Prima la messa preseduta dal Monsignor Claudio Giulio Dori, poi l'esibizione della Banda della Marina Militare guidata dal Maestro Antonio Barbagallo. Infine l'evento condotto da Paola Saluzzi. Numerosi gli artisti che hanno intrattenuto malati e operatori sanitari. Da Mario Incudine a Lorella Cuccarini, da Edoardo Vianello a Michele Laginestra, protagonista della fiction canonico di TV2000. Applausi per Milli Carlucci, alla quale è andato il premio istituito dalla Fondazione Ghirotti in memoria di Fabrizio Frizzi.